Sono passati cinque lunghi anni, il tempo aiuta a allenire le ferite del dolore, ma il pensiero ogni santissimo giorno va lì a suo marito Giuseppe Tirabasso, scomparso il 23 dicembre del 2016 a Doratino. La signora Franca era ed è disperata perché con il marito ha trascorso gran parte della sua vita, non gli ha potuto dire nemmeno addio, vado a fare due passi, mezz'ora, massimo un'ora e sarò di ritorno, le parole dell'81enne insegnante di Campobasso che era in casa con la moglie ed il terzo genito. È sparito nel nulla, eppure ha percorso poche centinaia di metri. Le ricerche sono proseguite per giorni, poi si sono interrotte a causa del maltempo. Giuseppe sembra sia stato dimenticato da tutti, non dalla sua famiglia, dalla moglie, dai figli, dai nipoti. Non ho ricevuto neanche una telefonata da parte dei rappresentanti delle istituzioni. Nessuno si è mai interessato alla mia persona nelle parole di Franca. Per Nolino c'è la rabbia di chi si sente abbandonata a se stessa. Si sarebbe potuto continuare a cercare, fare di più per ritrovare mio marito, conclude la donna attesa da un altro amaro Natale.